Ciao a tutti e bentornati a The Icons, la nostra rubrica sulle foto più iconiche della storia della fotografia. Io sono Francesco Morosino e oggi sono qui per farvi conoscere un altro fotografo molto molto importante per la storia della fotografia e in particolare per la street photography, un genere molto molto amato perché sembra semplice, scendo in strada, faccio delle foto, il gioco è fatto. In realtà è molto molto complicato e ci vuole tempo, pazienza e un sacco di attenzione ai dettagli e a prevedere l'immagine, quindi a immaginare ciò che sta per accadere, quindi prevedere il momento. Questo fotografo si chiama Alex Webb ed è considerato uno dei grandi maestri della street photography. Io ho avuto la fortuna di poter studiare con lui in un workshop lungo di 12 giorni e quindi ho appreso molto del suo modo di lavorare. Lo vedremo nelle sue fotografie. Lui è un fotografo molto metodico, lavora sempre nello stesso modo, ha costruito un suo schema mentale e segue sempre quello e in questo modo ha la capacità di andare in profondità nel mondo e trovare quello di cui ha bisogno, quello che sta cercando intorno a sé. Cominciamo subito a vedere alcune sue fotografie che ho scelto proprio perché hanno qualcosa di speciale e sono sicuro che potranno darvi delle idee, degli stimoli per andare anche voi in strade e provare a cimentarvi con questo genere di fotografia che come abbiamo detto non è per niente semplice. Vediamo. La prima foto che volevo farvi vedere è questa qui ed è la mia preferita in assoluto di tutte quelle scattate dall'Exweb. È una foto ambientata a Cuba nel 2000 di questi bambini che giocano in un parco giochi. Quindi tutti quanti abbiamo visto bambini giocare in un parco giochi ma abbiamo mai visto una foto così piena di roba, così piena di incastri? È una foto che io più la guardo e più scopro nuove cose da guardare. È veramente, veramente particolare e vi assicuro che non basta un solo sguardo per riuscire a cogliere la complessità di questo scatto. Il modo in cui lui è riuscito veramente a inserire tantissime cose in un'unica foto. E questo ovviamente lo può fare solo un grandissimo maestro e lo può fare anche dopo tempo, no? Non pensate che noi arriviamo in un luogo e subito riusciamo a scattare la foto perfetta. È una cosa molto rara. Ci vuole appunto tempo per studiare il luogo, studiare la situazione, entrare in confidenza anche con i soggetti che ci sono in quel luogo perché devono abituarsi alla nostra presenza e non esserne disturbati. E in questo caso lui è riuscito veramente in un piccolo miracolo perché veramente succedono tantissime, tantissime cose. E voglio farvene vedere alcune per farvi rendere conto, no? Quindi intanto il primo ragazzo qui in primo piano, di cui non vediamo la testa, ma vediamo l'ombra, per esempio. Quindi vediamo un'ombra perfetta proiettata qui sulla strada, sull'asfalto qui. E al tempo stesso però vediamo questa ragazza invece, ma ne vediamo solo metà del volto, tagliato bene, con l'occhio comunque non c'è perché se ci fosse stato un pezzettino avrebbe disturbato, invece è tagliato benissimo. E vediamo la sua espressione tra un po' l'infastidito, no? Insomma non è proprio contentissima, sta forse dicendo qualcosa, non lo so, un po' strana. E ha questa maglietta meravigliosa con tutte queste scritte, queste lettere, parole che però non si capiscono, sembrano quasi astratte, diventano quasi un motivo grafico molto strano. E al tempo stesso quindi è perfetta, no? Perché è quel bianco e nero che aggiunge qualcosa all'immagine e crea un altro elemento di attenzione. Poi abbiamo lui, questo ragazzino che sta tipo saltando da questo gioco e il viso non lo vediamo, o meglio vediamo il viso ma non vediamo gli occhi perché c'è questa luce di taglio e già di per sé questo è un ritratto bellissimo con una luce molto molto particolare, vediamo l'ombra del viso qui. Poi c'è lui, fantastico, in questa posizione completamente assurda che però diventa una posizione plastica inserita in questo semicerchio. Quindi anche qui vedete il movimento che fa il corpo e il movimento che fa questo semicerchio qui quindi anche questo è assolutamente incredibile. Poi in quest'area qui ci sono diversi altri bambini ce n'è uno qui che si nota molto dopo, nascosto vediamo solo un po' la testa, un po' le gambe qui ne vediamo un altro qui seduto qui dietro c'è un altro ancora che intuiamo lo vediamo poco e ce n'è anche uno qui che sta tipo scendendo forse da uno scivolo o da un altro di questi giochi per arrampicarsi e vediamo benissimo però il braccio e la mano appoggiati qui certo è un elemento che si nota dopo perché le altre cose un po' distrangono da questo elemento da quest'altro qui, da questo qui, insomma li vediamo dopo mentre vediamo molto quest'altro che è sempre uno di questi giochi, ho un'altalena ecco qui c'è l'altalena, vedete si sta dondolando sull'altalena quindi guardate quanti elementi in un'unica foto e non solo elementi umani ma un sacco di elementi geometrici abbiamo questo elemento geometrico questo, questo che vi ho fatto vedere prima questo movimento qui quindi ci sono molti movimenti all'interno della foto e ultima cosa che voglio farvi notare sono i colori la grande quantità di colori perfettamente bilanciati tra colori freddi e colori caldi quindi il colore per esempio dell'edificio dietro qui questo blu scuro, il celeste, il grigio e poi abbiamo i colori dei vestiti questo giallo arancio, il rosso insomma ci sono tantissimi colori diversi che rendono questa foto secondo me veramente uno scatto perfetto e quasi miracoloso posso dire per come tutto funziona in maniera veramente veramente bellissima ecco un altro scatto di Alex Webb e anche questo è con dei bambini e anche qui succedono un sacco di cose che notate man mano che osservate questa foto le foto di Alex Webb vanno osservate con calma questa è una cosa che ultimamente per noi è diventata difficile vediamo foto su Instagram che passano così con rapidità o su Facebook o su qualsiasi altro social non abbiamo il tempo di concentrarci facciamo così, scorriamo con una rapidità incredibile e vediamo foto molto piccole anche invece gli scatti di Alex Webb sono ricchi di dettagli andrebbero visti stampati grandi o su uno schermo grande per poterli ammirare al meglio è per questo che vi invito anche a prestargli attenzione a guardarli, andare magari poi sul suo sito sul sito Elamagnum dove trovate tutte le foto di Alex Webb e guardarli veramente con calma perché notate tante cose che a un primo sguardo non avete notato e io stesso che queste foto le ho viste tante volte scopro sempre nuovi particolari il punto focale di questa fotografia si trova al centro ed è questo pallone un pallone che ruota e sembra incredibilmente simile alla terra possiamo vedere i continenti, le nuvole, il mare ed è un pallone che questo ragazzo tiene sulla punta del dito quindi è una sorta di mondo veramente molto molto leggero e vediamo anche il bambino l'altro bambino sopra che lo guarda questo bambino qui che lo guarda in maniera veramente stupita si chiede quasi che cosa sia questa magia che sta accadendo il mondo poi azzurro e bianco questo che fa pandan perfettamente con il palazzo dietro anche questo azzurro e bianco perfetto qui vediamo altre persone ragazzi che stanno giocando una signora che sta entrando in questo edificio e qui vediamo un'altra scena meravigliosa che potrebbe sfuggire in un primo momento vediamo questo ragazzino che guarda in giù ma qui vediamo un'altra faccia di un altro bambino forse molto piccolo che lo guarda un po' sembra quasi che stia piangendo forse l'altro lo sta rimproverando non si sa però è un dettaglio in più che vediamo dopo così come un altro dettaglio veramente incredibile che si nota veramente all'ultimo prestando veramente molta attenzione è qui il canestro con il pallone che è appena entrato nel canestro probabilmente quindi anche questo è un dettaglio incredibile che aggiunge ulteriore interesse a questa immagine che in apparenza potrebbe sembrare semplice ma anche questa contiene una quantità di dettagli veramente spettacolare ecco un'altra immagine che come quella precedente è stata scattata in Messico a metà degli anni Ottanta anche qui c'è una bambina si vede che Alex Webb piace molto questa idea del gioco dei bambini che giocano e creano sempre avventure storie incredibili e tra le sue foto più belle ci sono proprio queste con i bambini e qui vedete questa immagine anche questa abbastanza incredibile ha un qualcosa di magico lei sospesa in aria che sembra fluttuare su queste fabbriche questa fabbrica poi con questo sbuffo di fumo bluastro che arriva su di lei come se fosse il fumo stesso che la tiene sospesa in aria ma ovviamente sappiamo che si è tuffata dal trampolino di questa piscina anche se essendo il trampolino perfettamente orizzontale sembra strano che lei ci sia tuffata si sta per tuffare in questa piscina che è in ombra quindi vediamo delle persone nere qui sotto vediamo queste persone qui scure e l'acqua molto molto scura quindi un blu intenso un blu strano che sembra quasi richiamare il colore del fumo della fabbrica quindi come se quest'acqua fosse stata infettata potremmo dire da questo fumo quindi è strano poi in generale in questa foto questo connubio tra un momento di svago di felicità la piscina e invece dietro questa fabbrica con questo fumo minaccioso che dà proprio il senso dell'inquinamento poi di questa foto al di là del contenuto è formalmente bello vedere anche qui tutte le linee come si incastrano questo gioco di linea linea quest'altro incastro qui la linea del trampolino sembra quasi continuare nella linea del fumo quindi crea quasi una cornice nella cornice vedete però che la foto è leggermente storta un errore direte voi no? le foto dovrebbero essere dritte precise e qui invece questa foto è uscita leggermente storta gli perdoniamo questo difetto e voi direte ma allora perché non l'ha drizzata è facile addrizzare una foto così non ci vuole niente no perché Alex Webb ha questa filosofia per cui le foto non si addrizzano le foto non si tagliano o la scatti correttamente oppure no e quindi non si fa quindi si lascia così l'immagine e non si va ad addrizzare e come vi dicevo lì è un fotografo che ha delle regole molto ferre e questa è una delle regole che lui adotta sempre un'altra immagine di divertimento è questa è un luogo veramente particolare questo a Monaco scattata questa negli anni 90 e vedete c'è un ragazzo nell'acqua che fa surf io ho visto questo luogo a Monaco ne sono rimasto veramente colpito sono questi ragazzi che fanno surf in un canale di scolo dell'acqua in realtà è veramente un posto incredibile e sicuramente ha colpito anche Alex Webb che ha aspettato questa foto è una foto che si vede che è frutto di un'attesa vediamo questo ciclista che sta guardando i ragazzi che si allenano c'è quest'ombra proiettata sul muro vedete anche l'uso delle ombre lui scatta moltissimo al tramonto perché proprio gli piacciono queste ombre molto nette e poi in questa finestra in questo muretto vediamo questo ragazzo che fa surf ma sembra quasi un mirino è incredibile no? sembra un mirino che sta centrando il suo obiettivo immaginate quanto tempo avrà aspettato per riuscire a catturare un ragazzo che passasse esattamente da lì il viso che non è coperto dalle sbarre le mani non sono coperte dalle sbarre i piedi non sono coperti dalle sbarre quindi veramente perfetto anche questo incastro ci vuole pazienza come vi dicevo prima ci vuole molta pazienza quando trovate un punto che vi piace dovete aspettare non potete avere fretta non potete correre sperare che la foto perfetta capiti per caso ci vuole come vi dicevo prima prevedere la foto quindi pensare prima a quello che si vuole scattare e aspettare finché tutto magicamente non si mette nella posizione giusta e lui qui sicuramente ha aspettato e ha ottenuto un risultato veramente eccellente passiamo a qualcosa di radicalmente diverso questa foto, la penultima che voglio mostrarvi oggi è stata scattata a Panama nel 1999 durante un'esercitazione dell'esercito americano in contesto di giungla quindi questo è un campo di esercitazione e ci ne accorgiamo subito da questo modellino in primo piano di questa sorta di soldatessa con un fucile di legno e dietro vediamo un fumogeno quindi fumo e questi soldati che stanno nascosti dietro un muretto di questa casupora anche questa abbastanza strana finta sono delle finestre finte per esempio e invece c'è un militare che sembra passeggiare un po' così come dire, indifferente da quello che sta succedendo non si sa bene che cosa sta facendo quindi qui vediamo qualcosa di bizzarro un po' lo svelamento della finzione perché se avessimo visto soltanto la foto di sopra avremmo potuto pensare a un contesto di guerra quindi qualcosa di reale anche se questa casupora ci avrebbe magari insospettiti ma questo manichino così bizzarro ci toglie completamente il dubbio e ci dice ok no questa è un'esercitazione non è la realtà ma è una finzione quindi un'immagine strana diversa da quelle sue consuete dove però c'è sempre il suo stile anche un po' quella vena ironica che contraddistingue molte delle sue fotografie l'ultima foto che volevo farvi vedere è questa e ho lasciato un po' per ultima quella che è insieme alla prima la mia sua foto preferita in assoluto è una foto del 1979 e rappresenta a differenza degli altri più divertenti, più ironiche un momento drammatico un momento in cui degli immigrati clandestini vengono arrestati al confine tra il Messico e gli Stati Uniti lui era lì a raccontare il lavoro delle guardie di confine e ha trovato questa scena incredibile ha visto questo campo di fiori gialli in cui questi immigrati stavano scappando e poi sono stati arrestati quindi ha testimoniato questo evento che mette in luce un fenomeno importante che va avanti da tanto anche troppo tempo questa foto è del 1979 e ancora oggi la situazione non è cambiata però questa foto ha qualcosa di magico perché vediamo qualcosa di drammatico in un contesto bellissimo questa foto senza le persone senza l'elicottero poteva essere un bellissimo campo di fiori con dietro delle nuvole anche interessanti invece così diventa uno scenario bello per qualcosa di brutto ed è una foto che fa ragionare un po' su come spesso ci sia una strana come dire una sorta di peccato originale della fotografia di reportage che è quella che comunque una foto di reportage deve essere bella anche se sta raccontando qualcosa di drammatico qualcosa di brutto e questo insomma è molto particolare come concetto ed è una sorta di contraddizione che non si riesce a eliminare dalla fotografia con cui dobbiamo comunque fare i conti guardate poi anche il dettaglio di questo elicottero che sembra quasi un insetto che sta per atterrare su questo fiore per succhiare il nettare del fiore anche questo è un dettaglio che sembra piccolo ma invece è veramente significativo insomma è una foto anche questa che vi fa vedere come questo fotografo sia veramente capace di trovare il modo per incastrare tantissime cose insieme e raccontare tante situazioni diverse in giro per il mondo vorrei concludere questo episodio di The Icons consigliandovi questo libro Street Photography e Immagine Poetica un libro di Alex Webb e della moglie Rebecca Norris Webb è un libro molto bello in cui loro danno dei consigli sulla fotografia e fanno un po' vedere le loro immagini più famose e volevo leggervi solo un piccolissimo pezzo lasciando a voi il resto del libro in cui Alex Webb dice alla fine non si tratta solo di ciò che il mondo offre al fotografo ma anche di ciò che il fotografo trasmette al mondo se il fotografo è nervoso anche le persone che lo circondano saranno nervose al contrario si affronta le situazioni con leggerezza e umorismo ma allo stesso tempo con serietà, compostezza e rispetto per la cultura in cui si trova probabilmente verrà accolto bene non c'è niente di male nello scherzare amichevolmente o nell'essere il bersaglio dello scherzo in fondo c'è un aspetto anche comico nel fotografo che si aggira per le strade in cerca di momenti che solo a lui sembrano straordinari in definitiva il tempo che un fotografo di strada dedica a una determinata situazione dipende in gran parte dalla grazia degli altri questo concetto proprio della grazia degli altri è molto importante perché spesso la fotografia viene vista come un appropriarsi dell'immagine degli altri invece sono gli altri che devono donarcela non dobbiamo essere noi a andare lì con aggressività e quindi questo pensiero di Alex Webb per me è un po' la morale della street photography ma in generale di tutta la fotografia vi ringrazio per aver visto questo video spero sia stato di ispirazione per voi vi do appuntamento al prossimo nel frattempo seguite questo canale per altri approfondimenti e altri video che stanno per arrivare vi ringrazio ancora e alla prossima ciao